ciao come ti chiami scopero e poi di cognome scopero di cano sei 2007 da dove vieni che squadra giochi pro calcio pro calcio rieti forza come ti senti pensi di fare una bella prestazione vediamo vediamo mi piace sta cosa posta ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.